In contemporanea con 92 città italiane e in 16 paesi europei, si è svolta anche a Gela la giornata europea della giustizia civile. L'obiettivo è stato quello di creare un momento di informazione e confronto tra operatori della giustizia e cittadini. Il notariato italiano ha deciso di aderire al progetto denominato Scuola Legalità con iniziative specifiche rivolte ai cittadini per far conoscere i principi del diritto italiano e europeo e spiegare il ruolo che il notaio pubblico ufficiale delegato dallo Stato svolge in Italia e in Europa. Appuntamento alla Ligio Classico Eschilo e alla Ligio Scientifico Elio Vittorini. Sicuramente la scuola a partire da oggi ha instaurato un rapporto di collaborazione con i notaio di Gela per cui avremo senz'altro degli incontri sulla tematica dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità perché comunque l'incontro di oggi si inserisce in questo contesto ma con l'associazione dei notari di Gela, con il notariato di Gela abbiamo, ci siamo accordati che potremmo organizzare un percorso di alternanza scuola-lavoro quindi diciamo che questo è l'inizio di una speriamo proficua collaborazione anche perché la scuola non può essere sola un'isola, la scuola deve per forza relazionarsi perché è giusto che i nostri studenti abbiano una visione completa del territorio che li circonda delle attività e delle aziende che operano nel nostro territorio. È una giornata che serve a rappresentare ai cittadini la possibilità e i metodi che hanno per tutelare i propri diritti tramite le figure che sono tipiche per la tutela dei diritti medesimi quindi la figura del magistrato, dell'avvocato e noi ci siamo soffermati particolarmente su quella del notaio perché in primis è una delle professioni professioni meno conosciute all'esterno e poi per rendere i dotti i ragazzi anche sotto un profilo preparatorio di quella che potrebbe essere la loro futura professione di quello che è il notariato e in che cosa consiste la nostra professione. Devono nascere con quest'idea della legalità dall'inizio perché la legalità serve in tutti i momenti della vita in tutti i momenti della vita serve per seguire tutto un percorso iniziano un percorso e lo devono completare fino a livello professionale, attività, lavoro quello nell'ambito della famiglia sotto tutti i punti di vista Capire quali sono le norme che regolano appunto la convivenza tra i soggetti quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare sia nei rapporti appunto con gli altri perché le norme riguardano sia i rapporti anche familiari ma i rapporti anche all'interno della scuola i rapporti all'interno della società quindi questo è importante sia a livello dell'ordinamento italiano ma anche importante anche l'ordinamento europeo perché permette anche di ormai siamo parte dell'Europa e quindi anche gli scambi commerciali avvengono anche tra i paesi europei quindi è importante anche conoscere le norme di diritto. Grazie mille!